Epoca vittoriana, fotografia, morte e sessualità. Questi gli argomenti di questo video. Ciao e benvenuto. In questo nuovo video voglio riparlare di arte, una cosa che mi è stata chiesta più volte in passato e che ho deciso quindi di riportare all'interno del canale. Oggi ti voglio parlare di una fotografia realizzata da Henry Peach Robinson nel 1858 e intitolata Fading Away. Henry Peach Robinson è un importante esponente della storia della fotografia legato al movimento del pittorialismo. Per capire la ricerca artistica di Robinson è sicuramente importante però fare un piccolo accenno su quella che era la storia della fotografia o la condizione della fotografia dell'epoca. L'Ottocento è stato il secolo in cui ci sfurano molti cambiamenti soprattutto sociali ma anche tecnologico-scientifici. Grazie alla tecnologia e alla scienza l'uomo aveva creato tutta una serie di nuovi strumenti che consentivano la scoperta del mondo e della realtà. La scoperta e la nascita della fotografia va quindi inserita all'interno di questo clima culturale che cercava appunto l'utilizzo di nuovi strumenti per conoscere e scoprire il mondo che ci circonda. La fotografia nasce appunto come qualcosa di tecnologico come qualcosa estremamente legato alla tecnica. Diciamo che gli intenti dei primi scopritori e dei primi inventori della fotografia era quello di creare delle immagini in maniera automatica soltanto utilizzando la luce e la sua facoltà di imprimere una superficie precedentemente trattata a questo scopo. La fotografia quindi aveva un aspetto molto più scientifico e tecnologico rispetto a quello che invece percepiamo noi oggi da questo strumento. Infatti la domanda a cui rispondeva l'invenzione della fotografia era quella di creare in maniera automatica delle immagini ma soprattutto la possibilità di poter riprodurre fedelmente le stesse in copie pressoché illimitate. Per tutti questi aspetti la fotografia aveva un utilizzo prettamente documentaristico e strettamente legato alla realtà. Per questi aspetti quindi non è stata fin da subito considerata come mezzo atto alla produzione artistica ma fin da subito agli occhi di molti artisti veniva considerato uno strumento interessante per poter creare qualcosa di artistico. Robinson per esempio è uno degli esponenti del pittorialismo che è stato un movimento che in qualche modo si è impegnato a dimostrare che la fotografia poteva essere considerata come uno strumento artistico e quindi utilizzava la fotografia non per creare dei documenti e creare delle immagini documentaristiche ma utilizzava la fotografia per creare delle immagini che in qualche modo avessero una valenza e una dignità estetica. Il fatto che la fotografia non fosse considerata opera d'arte era in qualche modo influenzato dal fatto che appunto il fare fotografia veniva visto come qualcosa di automatico che non prevedeva l'intervento dell'artista cosa che invece noi oggi sappiamo non essere così. Per questo tutta una serie di fotografi si impegnarono ad utilizzare la fotografia per fini artistici. Così fece appunto Robinson. Una di queste è appunto quella che vorrei presentarti all'interno di questo video che appunto si titola Fending Away del 1858. Innanzitutto perché è importante questa fotografia? È importante perché l'immagine che noi vediamo è un collage di più negativi. Questo vuol dire che la fotografia che noi vediamo non ritrae una scena che è stata creata in un dato luogo ma è un insieme di scene che sono state create in diversi momenti durante l'arco temporale e che quindi in qualche modo manda in cortocircuito l'idea della fotografia che si aveva allora e che forse abbiamo anche oggi. Certo oggi con la manipolazione fotografica siamo sicuramente molto più disinibiti e alcune cose le diamo per scontate ma voi immaginatevi nell'ottocento in cui la fotografia veniva considerata come pedissequa riproduzione del reale. Nel momento in cui la fotografia è nata si pensava che tutte le immagini che in qualche modo fossero nate dallo strumento fotografico fossero in qualche modo accadute in un dato tempo, in un dato luogo e che la macchina fotografica immortalando queste immagini testasse la loro veridicità. Nel momento in cui Robinson e altri fotografi utilizzano la fotografia creando dei montaggi e dei collage unendo più immagini differenti viene meno quell'aderenza al reale che tutti davano per scontato allo strumento fotografico. Nell'opera analizzata in questo video Robinson non ha utilizzato il collage soltanto per dimostrare questa teoria artistica e per in qualche modo andare contro quella che era la concezione più diffusa di fotografia ma lo fece anche per superare alcuni limiti tecnici che all'epoca la fotografia aveva. Innanzitutto la fotografia che vediamo sarebbe stata impossibile da realizzare all'epoca con un solo scatto per il semplice motivo che la lente e la superficie impressionabile in genere concentrava tutta la nitidezza nella parte centrale mentre nelle parti esterne e quelle più marginali della fotografia erano in genere interessate da molte sfocature o comunque da dei disturbi che non rendevano leggibile perfettamente l'immagine. Dividendo le esposizioni in base ai soggetti si cercava quindi di isolare il singolo soggetto che così poteva essere riprodotto nella fotografia con tutti i suoi dettagli. Inoltre la scelta di creare una fotografia da più negativi diversi dava la possibilità di poter mettere a fuoco vari oggetti e soggetti disposti in piani differenti della fotografia e nello stesso tempo poteva aiutare nell'esposizione corretta della luce per quanto riguarda i vari piani. Se noi analizziamo infatti la foto in questione vediamo che abbiamo una fotografia che è scattata all'interno di una stanza ma che ci dà anche l'atmosfera di ciò che avviene fuori attraverso appunto quello che noi vediamo dalla finestra. Le così differenti esposizioni di luce all'interno di questa fotografia sarebbero state difficili da catturare con gli strumenti dell'epoca quindi diciamo che il collage in questo caso per Robinson aveva lo scopo di creare una fotografia che in qualche modo andava a superare i limiti tecnici ma nello stesso tempo andava ad incarnare anche quell'idea di artisticità e di creazione artistica che Robinson voleva dimostrare. La fotografia di Robinson ci mostra una scena che non è mai avvenuta perché tutti i soggetti raffigurati sono in pratica il risultato di una messa in scena di una messa in scena che è avvenuta in più tempi diversi tra loro. Tutti quelli che vediamo infatti sono degli attori che hanno posato davanti allo strumento fotografico non contemporaneamente ma in diversi momenti e magari non si sono neanche incontrati questo perché la composizione finale è stata creata dallo stesso artista posizionando i vari negativi e stampando la fotografia soltanto in un secondo luogo. Questa tecnica è sicuramente importante per far capire come l'immagine che noi vediamo adesso stampata all'interno della fotografia fading away è stato il risultato di un processo creativo mentale del fotografo e non invece di un reale avvenimento che si è sviluppato così come lo vediamo davanti allo strumento fotografico. Questi sono sicuramente degli aspetti interessanti che ci fanno capire come un'immagine poteva essere letta in un determinato contesto storico e sociale e culturale molto diverso dal nostro. Fino adesso abbiamo parlato della tecnica della fotografia di Robinson. Adesso ci addentriamo un po' di più su quello che è invece il significato che è rappresentato all'interno di questa fotografia. La fotografia ritrae una scena di morte ossia la morte di una giovane fanciulla molto probabilmente per tubercolosi. Diciamo molto probabilmente per tubercolosi perché la tubercolosi era la malattia del secolo era la malattia romantica per eccellenza ed era la malattia che sicuramente in ambito artistico e letterario era molto presente e molto investigata per tutta una serie di elementi che vedremo a breve. Vediamo quindi una scena di morte all'interno di un contesto familiare. Vediamo tre figure in primo piano femminili una seduta all'estrema sinistra che dovrebbe essere o la mamma o la nonna comunque sicuramente una delle figure più anziane ritratte in questa fotografia. All'estrema sinistra invece vediamo altre due figure una in piedi che in qualche modo si appoggia al letto di morte e una distesa su appunto al letto di morte. Tutte queste tre figure sono le uniche che riusciamo a vedere in viso sono le uniche in luce e soprattutto sono le uniche riconoscibili nel senso che hanno una rappresentazione molto fedele per quanto riguarda il loro volto e il loro bestiario e anche le loro espressioni. In qualche modo le due figure femminili che guardano la scena di morte sembrano partecipare a questa scena quasi in maniera molto composta ma anche rassegnata e pacificata. In secondo piano invece nella parte centrale della fotografia vediamo una finestra su cui si staglia questa figura maschile nera che è l'unica figura poco leggibile nel senso che è in controluce e quindi è completamente scura ed è l'unica figura che oltre a non mostrarci il viso e quindi non riusciamo a percepirne i lineamenti o a leggerla nei particolari è anche l'unica figura che non guarda la scena di morte ma guarda fuori. Il fuori che ci viene svelato dalla finestra è un fuori sovrastato da un cielo nuvoloso che in qualche modo rimanda ai tormenti della malattia e contribuisce a creare quel pathos di sofferenza e tribolazione tipico appunto delle scene di morte. La fotografia è stata pensata e scattata anche tenendo in considerazione di alcuni equilibri per quanto riguarda le linee orizzontali e verticali. Le linee orizzontali vengono date appunto dal letto di morte ma anche dalle linee della finestra mentre le linee verticali vengono enfatizzate dal panneggio e dai tendaggi. Alcuni elementi della foto ci dimostrano che Robinson non voleva soltanto raccontare un momento di morte della contemporaneità. Ricordiamoci che in quel periodo la morte in casa soprattutto per malattie come in questo caso la tubercolosi erano molto diffuse e ricordiamoci tra l'altro che nell'Ottocento la fotografia post-mortem era molto diffusa ma di tutti questi aspetti ne parleremo in un secondo momento in questo video. Analizziamo adesso alcuni aspetti legati alla questione femminile. La figura femminile nell'Ottocento era interessata da molti simboli alcuni di questi erano inevitabilmente legati al rapporto tra morte e amore. Questo concetto tra morte e amore e per amore intendiamo poi la passione e la sessualità ben si esprimevano anche nella letteratura soprattutto in quei racconti in cui la figura femminile era preda di forti passioni che poi portavano alla morte. Una figura letteraria che sicuramente si avvicina a questo aspetto è Carmilla di Le Fanon ossia la vampira. Facciamo però un passo indietro perché abbiamo ricollegato questa scena di morte a una scena invece di amore e sessualità perché abbiamo sempre di Robinson una fotografia preparatoria di questo scatto che ritrae la stessa modella presa come modello per la realizzazione finale che viene ritratta appunto sul letto di morte e viene appunto creata questa fotografia molto diversa da questa perché è una fotografia in cui la modella è da sola e quindi la morente è lasciata da sola immersa nel buio che viene però intitolata She Never Told Her Love quindi lei non ha mai detto il suo amore. Vediamo subito che nell'immagine di preparatoria con quel titolo la morte viene in qualche modo vista come causa di un tormento passionale amoroso che quindi divora dall'interno l'infermo e lo porta alla morte la morte per la passione amorosa era estremamente diffusa all'interno della letteratura e dell'arte ottocentesca e in qualche modo diciamo che questi tormenti si andavano ad inscrivere in quella sorta di condotta di autocontrollo sessuale soprattutto che nell'ottocento erano parecchio pesanti soprattutto la figura femminile era una figura estremamente passiva e diciamo subalterna all'uomo la donna che non la donna che era in preda alle pulsioni amorose e sessuali doveva essere in qualche modo curata oppure subentrava la morte e la morte quando subentrava o per questi aspetti legati alla sessualità o per una malattia come la tubercolosi veniva vista come una buona morte ossia una morte liberatrice che in qualche modo contribuiva a ripristinare e restaurare quella sorta di innocenza e virginità che dovevano rimanere in qualche modo incorrotte all'interno della vita femminile la morte quindi veniva percepita quasi come salvezza quasi come soluzione per in qualche modo purificare un peccato originale o comunque purificare gli eccessi amorosi di una vita che non aveva rispettato proprio tutte le regole non era riuscita a porsi troppo autocontrollo in un certo senso visto che molti artisti raffiguravano la morte femminile vi era quasi una sorta di necrofilia ossia di piacere nel mostrare delle donne morenti questo perché la morte in qualche modo andava ad acutizzare la passività della donna rendendola così un oggetto desiderabile ma tutto sommato innocuo tutto questo discorso sulla morte e la sessualità quindi lo ritroviamo all'interno di questa foto la morte quindi non era causata soltanto dalla tubercolosi ma era causata anche dalla sensualità morbosa la figura maschile che troviamo nella foto infatti come ti ho già detto prima è quella che più si discosta dalle altre figure rappresentate all'interno dello scatto abbiamo visto che è una figura che non vediamo in volto abbiamo visto che è una figura che non guarda direttamente la scena di morte ma si guarda all'esterno ed è presentata quasi come un'ombra la figura maschile in questo caso sembra essere quasi un guardiano un controllore qualcuno che osserva la scena quasi con distacco e che si sente in qualche modo responsabile e allo stesso tempo impotente davanti a questa situazione il discorso sulla sessualità del vittorianesimo la possiamo semplificare in questo modo l'amore genera la passione la passione intesa come sessualità è farcita inevitabilmente dalla perdita di controllo e la perdita di controllo è estremamente fisica legata soprattutto per esempio all'atto sessuale immaginiamo l'orgasmo è una sorta di perdita di controllo è una sorta di perdita di controllo della fera della fera fisica e mentale che venivano in qualche modo ricollegati alla malattia anche la morte per malattia era in qualche modo una perdita di autocontrollo per esempio gli spasmi l'agitazione della morte e l'approssimarsi alla morte avevano nell'epoca vittoriana qualcosa di molto simile alla sessualità questa lettura è molto interessante ed è stata proposta da Jenny Hubre Mogensen mi scuso per la pronuncia comparsa appunto all'interno di Victorian Review la cosa interessante che l'autrice di questo articolo propone al lettore è anche una sorta di assonanza per quanto riguarda i termini che vengono utilizzati per descrivere la morte e la sessualità venire e andare che in qualche modo sono molto simili e ancora una volta vanno a legare fortemente la morte e l'amore con la sessualità la morte quindi aveva una forte correlazione con la perdita dell'autocontrollo e la sessualità ed era in qualche modo anche un interessante scamotage per consentire agli artisti di poter entrare all'interno delle stanze vittoriane visto che non si poteva raccontare in maniera spudorata la sessualità la morte invece era quasi una sorta di argomento più accettato e questo dava la possibilità agli artisti di poter inscenare e mettere in scena e proporre allo spettatore la camera da letto vittoriana che era uno dei luoghi più privati e intimi della famiglia vittoriana il male che quindi viene evocato da questa fotografia è un male fisico e morale fisico appunto legato alla tubercolosi morale legato alla sessualità e la morte è l'unico mezzo che può portare la malcapitata alla purezza perduta sicuramente la morte femminile come abbiamo detto aveva un sacco di aspetti legati alla sessualità e la morte per tubercolosi soprattutto quando veniva in giovane età era considerata una di quelle morti belle maestose anche perché era considerata sempre con risvolti morali nel senso che quel tipo di morte che teneva il cervello vigile ma che invece andava a in qualche modo danneggiare e disturbare il fisico veniva vista sempre come qualcosa di spirituale la fotografia di Robinson fu duramente criticata fu esposta nel 1858 come ti ho già detto all'interno del Crystal Palace e fu mostrata assieme agli scatti preparatori fu duramente criticata per il semplice fatto che veniva proposta una scena molto intima come quella appunto della morte e veniva proposta attraverso l'uso della fotografia vedere la morte in epoca vittoriana era sicuramente una cosa quotidiana accettata ed era accettata sicuramente all'interno delle rappresentazioni artistiche pittoriche scultore mentre era poco accettata all'interno della rappresentazione fotografica questo perché la rappresentazione fotografica immortalava qualcosa che inevitabilmente c'era stato con una tale precisione con una tale forza ed era quindi considerata poco adatta per temi legati appunto alla morte che era vista come una cosa molto intima e soprattutto familiare ma l'ottocento è stata anche l'epoca delle fotografie post-morte ossia le fotografie che ritraevano di difunti all'interno appunto del loro contesto familiare come spiegare quindi questa sorta di apparente se così possiamo chiamarla contraddizione da una parte i vittoriani erano avvecci alla fotografia post-morte che molto spesso custodivano all'interno delle loro case mentre poi si scandalizzavano quando una fotografia andava a raffigurare la morte questo per semplici motivi la fotografia di Robinson era una fotografia che aveva in qualche modo un intento artistico la fotografia in questo caso andava a creare una rappresentazione fittizia non stiamo guardando una morte reale ma stiamo guardando la messa in scena di una morte fatta da attori in momenti diversi e poi assemblati all'interno di un'opera artistica fatta con lo strumento fotografico questa cosa pubblicata e quindi resa pubblica diventava intollerabile da parte del grande pubblico vittoriano per il semplice fatto che la morte era vista come qualcosa di intimo e familiare e le fotografie post-morte molto diffuse avevano una fruizione esclusivamente all'interno delle mura domestiche quindi da una parte si andava a criticare il Robinson in fatto di aver preso e inscenato una morte come fatto estetico e soprattutto aver utilizzato la fotografia per descrivere questo momento che veniva considerata una cosa troppo cruda troppo diretta troppo reale per raccontare un evento così intimo e così familiare ho voluto parlarti di questa fotografia per inevitabilmente parlarti di fotografia post-morte abbiamo visto in altri video di questo canale la fotografia post-morte che quindi andava a fotografare e immortalare dei defunti o addirittura tutta la famiglia che partecipava in qualche modo al lutto mentre in questo caso abbiamo visto come una fotografia che parla di morte in qualche modo ricreata prodotta però dalla stessa società che produceva le fotografie post-morte fu letta in maniera diversa questo per farti capire che la fotografia post-morte in epoca vittoriana era sia accettata era sia un rituale molto diffuso ma era un rituale che in qualche modo veniva consumato all'interno delle mura domestiche questo perché la fotografia post-morte come ci dice appunto Mirko Orlando era qualcosa che aveva una valenza simbolica molto importante all'interno della famiglia serviva per organizzare i propri ricordi ma serviva anche per in qualche modo aumentare la coesione familiare intorno alla figura dei propri defunti aveva una fruizione domestica non pubblica per questo molti vittoriani si scandalizzarono quando la fotografia di Robinson invece fu diffusa in un contesto pubblico nonostante fosse una morte fitizia e una messa in scena sicuramente torneremo a parlare di fotografia post-morte all'interno del canale e usciranno altri video legati nello specifico alla storia della fotografia post-morte e agli aspetti della fotografia post-morte vittoriana e contemporanea io mi auguro di averti intrattenuto con questa lettura di questa fotografia ovviamente ti lascio i riferimenti bibliografici sotto in infobox mi piacerebbe sapere se conoscevi questa fotografia se ne conoscevi i significati e se hai trovato interessante le letture che ti ho proposto e che hanno di volta in volta fatto gli storici aspetto quindi i tuoi commenti ti do appuntamento al prossimo video ti ringrazio per l'attenzione ciao e a presto a presto